Continua la protesta degli studenti delle scuole superiori a Milano. Nella giornata di lunedì 21 febbraio sono infatti stati occupati il Cremona Zappa, che ospita un liceo economico-sociale, un istituto tecnico-economico e il liceo artistico Boccioni, che si aggiungono così alla scia di occupazioni dei licei milanesi dall'inizio dell'anno ad oggi. Solo l'unidì scorso era stata la volta del classico Parini e dello scientifico Bottoni e la settimana prima era toccato al Carducci, al Vittorio Veneto e al classico Beccaria. A scatenare l'escalation di proteste nelle scuole di tutta Italia, la recente morte dei due ragazzi che facevano parte dei programmi di alternanza scuola e lavoro, Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci. Non possiamo più stare in silenzio davanti a una società che ci abitua fin da giovani a un mondo del lavoro precario e senza tutele, in cui essere sfruttati e svalutati, scrivono i ragazzi del Cremona Zappa, che chiedono che venga rivisto strutturalmente il sistema scolastico. In particolare gli studenti protestano contro la reintroduzione degli iscritti per l'esame di maturità e il programma di utilizzo dei fondi del PNRR, su cui i ragazzi vogliono avere voce in capitolo per trasformare la scuola in un luogo di emancipazione collettiva ed individuale. La pensano allo stesso modo anche gli studenti del liceo artistico Boccioni, che hanno deciso di occupare per cambiare il futuro della loro scuola. La scuola oggi è un luogo di non studio, commentano i ragazzi. La preparazione nozionistica ci dà una visione parziale del mondo, con programmi vecchi di cent'anni nati in un contesto fascista. Noi studenti siamo succubi di un sistema autoritario, continuano i ragazzi, ma oggi noi abbiamo l'intenzione di aprire un nuovo capitolo per questa scuola, perché questa occupazione non sia solo fino a se stessa, ma sia l'inizio di una scuola nuova.